C'è voglia di mettere su famiglia, luogo santo, 14 nuovi nati da gennaio del 2024 a oggi contro i 5 bambini messi al mondo nel 2023. Il paese gallurese inverte la tendenza del fenomeno della denatalità che colpisce a fossa l'indice demografico della Sardegna con un bilancio sulle nascite che porta un consistente segno più. Aumentano le nascite e sale anche il numero dei nuclei familiari che decidono di trasferirsi nel paese medievale dell'Alte Gallura. Risultati importanti che vedono come fattore scatenante l'aiuto finanziario che il Comune riconosce alle famiglie grazie ai finanziamenti regionali stanziati nel 2022 che coprono diverse annualità. La deliberazione 28-22 dell'ex assessore al bilancio Giuseppe Fasolino prevede infatti l'assegnazione di misure contro lo spopolamento per i comuni con meno di 3.000 abitanti, riconoscendo 600 euro mensili per il primo figlio nato e 400 per ogni figlio successivo al primo. La somma destinata a luogo santo sfiora 180.000 euro. Per il sindaco Agostino Pirredda i contributi regionali sono stati determinanti per incrementare nascite e popolazione residente. Prima di queste disposizioni, dice, la stessa famiglia che oggi ha tre figli si sarebbe fermata a uno. La sicurezza economica ha stimolato la voglia di mettere su famiglia. Azioni contro lo spopolamento che dimostrano una duplice efficacia anche per il recupero del patrimonio immobiliare esistente. Sei famiglie sono state inserite nella graduatoria degli aiuti economici per l'acquisto o le ristrutturazioni di prime case assegnando punteggi differenti in base al numero dei figli e alla scelta di trasferire la propria residenza a luogo santo. E sono cinque le famiglie che hanno scelto di vivere nel comune gallurese. L'assegnazione per il 2023 supera gli 83 mila euro. L'auspicio, afferma il primo cittadino di luogo santo, è che possano continuare ad essere stanziati contributi verso i piccoli comuni per contrastare il fenomeno dello spopolamento e recuperare il patrimonio edilizio del centro urbano.